Curare e prevenire, curare e prevenire è esattamente l'impegno di tutti, per questo dal 30 ottobre l'amministrazione comunale di Palermo ha messo a disposizione l'intera fiera del Mediterraneo, un'area certamente idonea che dal 30 ottobre svolge un servizio importante ai cittadini attraverso la possibilità di avere un accertamento, uno screening attraverso i tamponi ma anche al tempo stesso adesso anche per poter essere una sede adeguata per i vaccini. Ancora una volta la collaborazione istituzionale è elemento fondamentale per poter superare l'attuale momento che richiede, non mi stancho mai di ripeterlo, la collaborazione di tutti, soprattutto richiede il rispetto delle regole elementari di sicurezza da parte dei cittadini che devono avere più paura del contagio che delle possibili sanzioni per la violazione delle norme sulla prevenzione. Un immane sforzo per limitare il numero dei morti per arginare una tragedia mai conosciuta dal nostro paese.